Abbiamo avuto tempi in cui, coi rami di agrifoglio, vestivano quaderni e pensierini, mentre l'albero c'ha spoglio di cartone e celofan, si colorava a festa per attendere la visita del prete. E poi le luci intermittenti, come i nostri più segreti sentimenti, ed eravamo tanti, amici coi parenti, vicini e conoscenti. Che non ci sono più. Abbiamo avuto tempi con il vischio sulla porta, tovaglie rosse, luci di candela. C'era sempre una signora che non si sposava mai, torrone nella cesta, telefonate giunte da lontano, con gli auguri da piacenza. E il panettone stava sopra la credenza, in quella grande stanza, tra quella confidenza. e c'era una presenza che non ritrovo più. E il panettone stava sopra la credenza. Grazie a tutti